Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video della serie Ellie is Waiting for Christmas! Oggi parliamo, come avrete letto dal titolo, di Idee Outfit, ma in particolare voglio parlarvi di questo brand che è stato aggiunto sul sito di MySelleria, ovvero il brand Tesori. Desori produce accessori realizzati interamente a mano e soprattutto 100% in vera pelle e appunto per queste loro caratteristiche, soprattutto la qualità della pelle, sono accessori che durano tantissimo nel tempo. E per questo voglio rispondere a una domanda che mi fate sempre in tantissimi, ovvero da dove viene la tua cintura con il cavallino? Ecco, la mia cintura con il cavallino è del brand Tesori e quest'oggi sono qui per farvi vedere altri due accessori e come potete utilizzarli nella vita sia equestre che nella vita di tutti i giorni. In particolare sul sito di MySelleria trovate tre modelli di cinture, ma sicuramente più avanti verranno aggiornati e aggiunti altri prodotti. E trovate il modello sport, il modello classico e il modello gioiello che è il mio, che ora vi farò vedere. Come vi ho detto queste cinture sono realizzate totalmente a mano e in vera pelle, ma un'altra cosa molto carina di questi prodotti è che vengono con queste scatoline molto particolari che decorate con un fiocchettino rosso, secondo me sono già pronte per essere regalate così come sono. Qui appunto il cartellino vi ripete che sono realizzati 100% a mano e soprattutto in Italia, nella zona di Venezia. E appunto aprendo trovate la cintura, super protetta dal suo sacchetto. Il mio modello, come vi dicevo, è il modello gioiello, che ha questa fibia molto particolare realizzata con due teste di cavallo. È super 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 particolare, molto 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 bella e secondo me dà un carattere all'outfit molto particolare. Per quanto riguarda la misura, voi potete semplicemente accorciarla tagliandola con la forbice. Vedete qua c'è la sua vitina che si va a svitare e poi si taglia semplicemente con una forbice e si va a regolare la lunghezza, insomma, in base a quello che preferite. Quindi è veramente super semplice anche da regolare. Come vi dicevo, io utilizzo tantissimo la mia cintura già che ho di Desori, sia per montare, quindi per dare un po' più di carattere ai miei outfit per montare, ma anche nella vita di tutti i giorni. Quindi io utilizzo la mia cintura con il cavallino quasi sempre, è l'unica praticamente che utilizzo. E questa, secondo me, ha ancora più caratteri rispetto a quella col cavallino piccolissimo. Anche le altre due sono molto belle, molto eleganti, ma questa secondo me è top. È molto 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 particolare. E ora vi lascio a un breve video dove vi do due idee, una equestre e una non, con questa cintura. Il secondo accessorio che invece voglio farvi vedere è questa pochette stupenda. Quanto è bella! E' ovviamente realizzata anche questa 100% in vera pelle e dai maestri artigiani italiani al 100%, anzi della zona di Venezia. Questa pochette è qualcosa di strepitoso. Guardate che bella! Questa frangia sta un po' a richiamare la criniera del cavallo. Si apre in questo modo e dentro potete metterci qualsiasi cosa. Potete usarla come pochette se dovete fare le commissioni, potete utilizzarla come pochette per un outfit elegante, potete usarla come pochette per la gara. Per esempio io la utilizzerai tantissimo in gara. Invece di portarmi uno zaino, qui dentro ci sta il telefono, le chiavi della macchina, ci sta l'essenziale, un paio di fazzoletti, insomma ci sta tutto volendo il necessario. E potete utilizzarla appunto mentre siete in gara. Se non volete portarvi dietro uno zaino potete portare semplicemente la pochette e sarete sicuramente molto a tema. Ovviamente questa pochette potete usarla appunto sia in ambiti equestre, quindi quando siete in gara o quando dovete fare qualcosa che siete vestiti magari un po' più da equitazione. Ma potete usarla anche nella vita di tutti i giorni con un outfit più elegante, magari per un aperitivo particolare. Insomma è un accessorio che va secondo me a decorare in maniera molto particolare il vostro outfit e che al tempo stesso fa capire che amate i cavalli e che amate fare equitazione. D'altronde lo sappiamo che noi del mondo dell'equitazione mettiamo i cavalli un po' ovunque. Bene con questa sarà abbastanza esplicita la cosa. Adesso vi lascio altre due idee, una equestre e una per la vita di tutti i giorni dove andiamo ad abbinare sia la cintura che la pochette in modo molto semplice e adatto a chiunque. Perché ve le faccio vedere in questo periodo? Perché secondo me sono delle ottime idee regalo per Natale. Infatti sono prodotti che hanno un prezzo leggermente elevato ma che è giustificato ovviamente dal fatto che sono 100% italiani, 100% realizzati a mano e in vera pelle. Quindi state andando a regalare un prodotto di un'altissima qualità, soprattutto italiano e che andrà a durare nel tempo perché la mia cintura vi assicuro ce l'ho da tre anni ed è ancora perfetta quasi come nuova. L'ho usata in qualsiasi tipo di occasione sia per montare che non ed è ancora bellissima. E ovviamente questi prodotti li troverete su MySelleria e ovviamente potrete applicare anche il mio codice sconto del 10% che vi ricordo scritto qua ma anche qui giù nell'info box. Io vi lascio tutte le indicazioni per trovare questi prodotti sul sito di MySelleria qui giù nell'info box, vi lascio anche il codice sconto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che le idee e outfit vi siano piaciute. Io vi mando un grandissimo bacio, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social network e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!